brava barbara oggi è sapphire e ha confermato che ha un cuore che batte forte forte per l'altro e quando Alex ha fatto quel schizzo oggi non l'avevo mai visto con degli occhi così aperti barbara grazie mille grazie di tutto il lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie alla squadra grazie grazie